Ok, il prossimo pezzo è un mashup, per chi non sapesse che cosa sia un mashup, è l'unione di due o più canzoni. In questo caso ho scelto Ed Sheeran con Don't e No Dig D. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.